Buongiorno a tutti e benvenuti al seminario web di oggi, sono Antonio Sebastiani, sono responsabile marketing in Xsite Pantone, sarò il moderatore di questo webinar. Durante la presentazione tutti i partecipanti saranno in modalità silenziosa, avrete comunque l'opportunità di inoltrare eventuali domande al presentatore di oggi, scrivendole nel riquadro in basso che trovate nel vostro pannello di controllo. Le domande possono essere inoltrate in ogni momento, poi io le girerò direttamente al presentatore durante il momento di domande e risposte previsto alla fine della presentazione. Entro 24-48 ore riceverete anche una mail con un link che vi darà la possibilità di riascoltare la registrazione di questo webinar. A questo punto non mi resta che introdurre il presentatore del webinar di oggi, si tratta del signor Massimo Menozzi. Massimo è Field Application Engineer per Xsite Pantone e ha un'esperienza pluriannale nell'ambito del color matching e del color management. A questo punto non mi resta che passare la parola proprio a lui per illustrarvi gli argomenti di oggi e vi auguro un buon ascolto. Massimo. Grazie Antonio, buongiorno a tutti i partecipanti. Parleremo oggi dell'impatto che ha il colore nella stampa su cartone pieghevole e per gli imballaggi. Possiamo iniziare. Praticamente abbiamo un workflow oggigiorno che consente sfortunatamente di avere tantissimi errori di interpretazione e di comunicazione del colore dalla fonte che specifica e definisce i requisiti dei lavori passando per tutti quanti gli step di comunicazione. Quindi il designer, chi si occupa del premedia, quindi converte il progetto in un file pronto per la stampa, chi formula gli inchiostri, che sia questa la ditta stessa o che sia il fornitore, chi di fatto stampa la pubblicazione e chi poi deve controllare che il prodotto sia stato fatto come era stato previsto. In realtà oggigiorno in tante maglie di questa catena si possono effettuare errori. Come possono essere evitati? Semplicemente facendo una comunicazione corretta nei dovuti termini e controllando che ogni step sia calibrato secondo di quanto richiesto. Il lavoro del converter presenta oggigiorno nuove sfide e si fa di fatto più complesso perché devono essere, vengono definite delle tempistiche, vengono richieste delle specifiche che devono essere rispettate, si di fatto cerca di ridurre il più possibile i tempi di preparazione e di migliorare l'uniformità cromatica che sia questo all'interno di una produzione o in successive ristampe. Devono essere evitate di fatto le variazioni nel processo di produzione e accelerare i tempi di commercializzazione. Devono essere garantiti la conformità con alcuni standard di stampa che eventualmente possono essere richiesti. Per effettuare questo e quindi adattarsi ad un mercato che è sempre in rapida evoluzione bisogna andare oltre il passato e il fallito e utilizzare i metadati che possono essere creati da eventuali strumenti di misura per ottenere la massima qualità di stampa, ampliare la capacità e ricavare informazioni preziose. La comunicazione del colore implica anche relative aspettative, quindi il brand, il gestore del marco definisce degli standard che comunica a chi poi effettua il design e questa parte di creazione dell'idea deve essere di fatto rapportata poi a chi effettua la produzione vera e propria, quindi chi trasferisce, chi trasforma l'idea in un progetto, chi formula l'inchiostro, chi effettua il setup della macchina e eventuali ristampe che devono essere fatte durante il ciclo di vita di questo prodotto. Abbiamo bisogno da una parte di tempi di immissione nel mercato piuttosto rapidi e più colori su più materiali diversi. Un brand che utilizza packaging può stampare su film, su cartone, su carta normale, su ondulato e via dicendo. Quindi questo implica che vengano creati adeguati progetti per tutte quante le tipologie di stampa. Come determiniamo le soluzioni? A seconda della cosa che noi chiamiamo color maturity model dobbiamo cercare di analizzare il workflow. In che modo nella vostra attività si valuta la qualità del colore nel workflow? Dobbiamo passare sempre più dalla modalità visiva e fisica, quindi della comparazione dei campioni sotto un'eventuale cabina luce a quella empirica e spettrale, permettendo di garantire una qualità e uniformità possiamo migliorare il livello della produzione definendo soluzioni personalizzate che permettono di ottenere colori accurati in breve tempo a prescindere dal workflow attuale che già esiste in azienda. Quindi possiamo inserire degli standard traumatici, fino a 28 libreria Pantone per imballaggi su diversi tipi di substrato e sistemi di inchiostrazione e di stampa tipo flessografia, offset e rotocalco. Software che definiscono gli standard e che rispettano certi tipi di standard propri del settore a cui si appartiene garantendo una uniformità con gli standard cromatici. Gli strumenti di misurazione, quindi spettrofotometri che analizzano il colore non in modo soggettivo come può fare l'essere umano ma a livello oggettivo e quindi senza se e senza ma. Servizi di implementazione, di formazione e di sostegno che ovviamente aiutano le diverse realtà a gestire questo flusso nel modo ottimale e per avere un maggior rendimento della produzione. Partiamo con le specifiche del colore che ci aiutano ad armonizzare il flusso di lavoro utilizzando degli standard centralizzati. esistono standard sia digitali che fisici. Gli standard fisici sono ottimi per la visualizzazione del colore quindi di una visualizzazione soggettiva e quindi sempre all'interno di una cabina luce o quantomeno esposti a una luce normalizzata possono essere controllati tramite diversi standard fisici che possono essere mazzette e standard stampati che possono avere comunque una lieve variabilità nella produzione prove in sala di inchiostri quindi maggiori variabilità nella stampa possiamo stampare e fornire delle pubblicazioni che visualizzano il delta E che si sposta in un modo o in un altro e visualmente poter dire sì sono più vicino in un modo più vicino nell'altro possiamo fare delle prove di invecchiamento e di utilizzo sapendo che il colore nel tempo cambierà perché i supporti e anche la penetrazione dell'inchiostro sul supporto fanno in modo che questo nel breve e medio tempo possa cambiare rispetto al momento in cui è stato stampato sono delle ottime guide visive ma non uno standard di produzione uniforme quindi le mazzette vengono create ovviamente da uno standard digitale con delle tolleranze seppur piccole ma comunque possono essere diverse dallo standard leggermente diverse dallo standard digitale per cui ci può essere un accumulo di errori quindi cosa succede il proprietario del marchio invia un campione fisico a due diversi stampatori nell'esempio e questi stampatori all'interno delle tolleranze ovviamente due campioni possono essere fatti con una tolleranza leggermente diversa una dall'altro e gli stampatori quindi i converter avranno una concordanza di inchiostri che può essere più o meno ampia e l'effetto sulla stampa finale può arrivare ad un delta E superiore a 6 ad esempio perché il livello di tolleranza viene all'interno dell'azienda gestito dal livello tecnologico degli impianti quindi impianti più o meno nuovi più o meno performanti dallo stato di conservazione degli stessi e dall'istruzione del personale il personale deve ovviamente essere istruito ad analizzare il colore sia questo strumentalmente o visivamente e quindi più il personale è istruito su come controllarlo meglio riusciamo ad avere uno standard più alto possiamo avere uno standard di produzione quello che vediamo è un esempio di come tre diversi converter hanno stampato lo stesso colore sul medesimo substrato ognuno di loro ha mantenuto un delta E inferiore a 0,2 rispetto a se stesso rispetto al campione fisico che hanno ricevuto tutti quanti i converter sono rientrati nei limiti di tolleranza ma nel complesso abbiamo un delta E maggiore di 3 vedete tra il converter A e il converter B e un'analisi circolare tra tutti e tra i converter arriviamo ad un delta E nell'esempio di 3,21 esistono anche gli standard digitali lo standard digitale è l'unico certificato da Pantone sono standard ovviamente univoci è coerente quindi non passa più attraverso la tolleranza che lo stampatore ha utilizzato per stampare la mazzetta o il campione fisico è un dato preciso quindi ripetibile e scientifico contiene dei dati spettrali che possono aiutare nella prevenzione del metamerismo e quindi della concordanza del colore in condizioni di illuminazioni differenti attenzione però alla fonte dalle quali arrivano dobbiamo sapere da dove proviene e in che modo è stato misurato quindi chi mi ha mandato questo file mi ha mandato un file originale mi ha mandato una lettura che ha fatto lui e in che modo è stata effettuata questa lettura a questo proposito xwrite tanto tempo fa ha creato un file denominato cxf che contiene tutte quante le caratteristiche che si sono utilizzate durante la misurazione quindi che tipo di strumento che tipo di illuminante e via dicendo il formato cxf oggi da qualche anno è diventato norma iso e quindi un file aperto e consultabile da tutti interpretabile anche dai più diffusi software di grafica contiene i metadati che sono necessari per lo sviluppo del colore pantone live fornisce i dati compatibili con cxf su un sistema basato sul cloud come fonte controllata degli standard quindi standard univoci per tutti quanti attingono a queste librerie in questo modo possiamo ridurre l'accumulo di errori ovviamente tutti quanti mirano a questo ad uno stesso standard digitale realizzabile in questo caso il proprietario del marchio comunica allo stampatore come scaricare o come accedere alla banca dati pantone live ad esempio e lo stampatore in questo modo evita la tolleranza che il proprietario del marchio magari ha inviato con due lotti diversi del campione fisico allo stampatore quindi si è visto che la variazione totale tra due stampatori può arrivare al massimo a un delta e 2,5 e quindi di molto inferiore rispetto a quello visto in precedenza la produzione le diverse produzioni quindi da diversi stampatori dello stesso prodotto saranno molto più uniformi e meno visibili sullo scaffale ad esempio del supermercato gli standard esistono diversi tipi di standard digitali gli standard principali fanno che nel tempo pantone sia diventato il linguaggio diciamo più diffuso del colore nelle arti grafiche la specifica dei colori spettrali tramite pantone permette di gestire senza nessuna ambiguità le aspettative del gestore o del proprietario del marchio quindi i colori che possono essere stampati appunto con lo standard principale rispecchiano esattamente quello che viene poi richiesto il problema deriva quando abbiamo un supporto diverso da quello che noi comunemente possiamo vedere nelle mazzette tipo carta patinata o carta non patinata sfortunatamente gli standard principali non sono sufficienti perché se io devo prendere riferimento un colore stampato su una carta bianca patinata non sarà mai uguale a quello stampato su un supporto su carta riciclata ad esempio o su cartone io non riuscirò mai a raggiungere il tono del colore della mazzetta e quindi lo stampatore è costretto ad inventare il suo miglior match che può essere diverso dallo stampatore b e dallo stampatore c in questo caso come vediamo nella slide ci possono essere dei fuori gamma notevoli e molto diversi uno dall'altro che in alcuni casi raggiungono anche delta e 50 quindi colori molto diversi da quelli che vengono prescritti dal possessore del marchio per cui dobbiamo cercare di eliminare delle soggettività Pantone Live a questo proposito ha creato mazzette diverse di standard dipendenti quindi mazzette digitali ovviamente nei quali sono stati stampati i colori della mazzetta principale su diversi tipi di supporto ad esempio il craft marrone per la stampa flessografica questo è il miglior la miglior replica su quel determinato tipo di supporto quindi il miglior match per cui viene data meno libertà o meno possibilità di inventare colori diversi dallo standard ma do già un riferimento realizzabile su questo tipo di supporto per cui lo stampatore riesce ad andare ad avvicinarsi il più possibile con la sua stampa ovviamente ce ne sono qui c'è un esempio solo ma ce ne sono di tanti tipi di stampa quindi offset piuttosto che flessografica piuttosto che rotocalco e diversi tipi di supporto dal film plastico a diversi tipi di supporto cartaceo carta cartone e via dicendo quindi il pantone live di fatto ci consente di ridurre i tempi di avviamento macchina ci consente di ridurre gli sprechi di materiali stampati per errore ci consente di avere meno variazioni cromatiche nel prodotto finale che viene stampato da diversi converter e ovviamente alla fine di tutto questo di ottenere un grandissimo una grandissima diminuzione di reclami da parte del cliente per i converter possiamo fornire dei sistemi di misurazione ovviamente di rilevazione di controllo gestione comunicazione all'interno di tutto il workflow esistono spettrofotometri per la misurazione del colore spettrale ad ogni step di processo a supporto di tutti gli standard internazionali siano ISO 12647 che 15339 EXACT è il nostro strumento di punta per il settore delle arti grafiche è una misurazione avanzata e approfondita del colore ad ogni livello di processo a supporto di tutti gli standard di stampa internazionali e per il bilanciamento meccanico del grigio G7 o SCTV un altro strumento ideale per il controllo della stampa in offset è la serie IntelliTrux 2 un'evoluzione dell'IntelliTrux di qualche anno fa che consente un controllo immediato e diretto per la gestione dei calamai sulla stampa sulla larghezza del foglio quindi viene scansionato in meno di 10 secondi l'intera barra colore che tramite il software visualizza direttamente le viti dei calamai da aprire o chiudere per seguire un discorso di densità o sia anche questo un discorso di delta E è a supporto appunto degli standard di settore come si diceva poc'anzi tra cui l'ultimo tra cui l'ultimo nato M1 a supporto delle stampe effettuate su supporti che contengono OBA che sono i famosi sbiancanti ottici e la funzione M3 per misurare l'inchiosto fresco diciamo non proprio ancora definitivamente asciutto l'intelli Trax 2 può accedere direttamente al database Pantone Live e quindi scaricare eventuali standard secondari relativi appunto al colore che viene richiesto può scambiare inoltre i dati con ColorCert per il controllo statistico dei processi ColorCert che dicevamo poc'anzi è una suite di controllo qualità e reporting in tempo reale consente riduzione dei tempi di stampa il conseguimento di una produttività molto elevata e la riduzione delle necessità di approvazione in fase di stampa individua eventuali aree che si prestano a misurare a misurazione e analisi e quindi un miglioramento in ogni lavoro il ColorCert Scorecard è un archivio che in tempo reale crea un report chiaro anche ai non addetti ai lavori quindi coloro che sono chiamati a gestire una produzione o a gestire un'impresa ma che non hanno conoscenze specifiche del settore del colore individua quindi eventuali aree che si prestano anche qui a misurazione e analisi di processo per migliorare la qualità di stampa finale il value stream mapping consente di aumentare le prestazioni e la redditività consente di creare una mappa evisiva dell'efficienza del workflow e di sviluppare un piano d'azione per affrontare in modo sistematico le inefficienze e anche il ROI return of investment ne crea beneficio e quindi come funziona questo value stream mapping dopo una richiesta del cliente i nostri esperti effettueranno un sopralluogo e un'analisi del workflow in azienda dopodiché stilato questo rapporto si eseguirà un workshop di tre giorni presso lo stabilimento del cliente con il team direttivo in modo da presentare esattamente cosa e dove intervenire la definizione delle migliori pratiche consentono quindi una crescita a lungo termine la formazione completa in sessioni brevi e ben gestibili porta dei risultati quali riduzione dei tempi di preparazione e dei costi e degli sprechi dei materiali aumento di velocità quindi ne consegue aumento di qualità e ripetibilità e quindi tangibile ritorno di investimento steve rickett presidente dell'unimac si ha donato questa diciamo questo questo discorso e quindi dice che utilizzando investendo comunque in tecnologia tra spettrofotometri software di formulazione e software di controllo qualità e rendicontazione appunto per il reparto premedia ogni dollaro investito in X-Rite è stato calcolato per ogni dollaro investito è stato calcolato un risparmio tra i 20 e i 30 dollari e un periodo di 5 anni per ammortizzare l'investimento le soluzioni di X-Rite Pantone quindi vi aiuteranno a garantire la vostra massima qualità nel minor tempo possibile vi ringrazio per l'attenzione e in caso abbiate domande e commenti potete inviarli all'indirizzo che vedete in basso la mia presentazione è terminata Antonio ti cedo la parola grazie grazie Massimo per questa tua presentazione come accennavo all'inizio abbiamo dato la possibilità di inoltrarci già qualche domanda e ne abbiamo ricevute alcune quindi passo alla lettura allora la prima ci chiedono come posso accedere a Pantone Live il Pantone Live a Pantone Live si accede tramite un abbonamento acquistato appunto presso X-Rite Pantone e tramite i nostri software di gestione degli strumenti o di controllo qualità e formulazione si accede ad una banca dati e quindi si scarica un file che contiene un file CXF di fatto che abbiamo spiegato prima che contiene tutte le specifiche di controllo e di del colore proprio da realizzare e a proposito dei formati CXF ci chiedono se si può esportare questo formato dai software X-Rite Sì esattamente si possono effettuare misurazioni tramite i nostri software appunto di formulazione e controllo quali Ink Formulation IQC o Exact Manager che è il gestore diciamo dello strumento exact possono essere esportati questi file CXF e quindi scambiati anche all'interno del workflow aziendale e quindi dalla messa a punto della macchina alla fase di controllo e anche alla fase di pre-media che viene ovviamente prima di queste due fasi citate un po' anzi possono essere scambiati velocemente per email anche con un fornitore un cliente o addirittura chi prepara gli inchiostri diciamo in conto terzi e poi ancora una domanda ci chiedono se esistono diverse versioni di Exact esiste in quattro versioni diciamo cinque in realtà sono versioni due versioni base chiamiamole che sono solamente densitometro quindi non effetto una misura spettrale ma solamente funzioni di rilevazione della densità e quindi densitometria poi ci sono altre due versioni standard e advanced che sono di fatto spettrofotometri che possono consentire oltre ovviamente alla misura della densità anche misure spettrali e di comparazione tra standard e standard di richiamo con delle librerie sia queste pantoni sia queste personali residenti all'interno dello strumento e che di fatto possono anche essere implementate oppure anche rispetto a normative che dicevamo prima rispetti rispettando le normative uni appunto 12 6 4 7 e via dicendo dal primo all'ultimo strumento diciamo l'hardware rimane di fatto lo stesso possono essere aggiornate tramite l'acquisto di un codice che va a sbloccare funzionamenti appunto della classe superiore alla quale si vuole upgradare ok sembra che non ci siano ulteriori domande per oggi allora io vorrei ringraziare Massimo per questo webinar e tutti voi per la partecipazione qualora ci fossero altre domande potete eventualmente inoltrarle all'indirizzo di Massimo Menotti che vedete sulla slide oppure all'indirizzo printmarketing underscore EU chiocciola xrite.com in nome di xrite Pantone vi ringrazio e vi auguro una buona giornata arrivederci a tutti